E' iniziata la nuova edizione di Afforda Barocchera Milano. Anche per questa edizione, come sempre, abbiamo diverse novità, a partire dalla selezione delle gallerie partecipanti. Abbiamo delle rinunioni da paesi interessanti, come Russia, per la prima volta, e Cina. Abbiamo fatto un progetto sull'illustrazione in collaborazione con illustrazioni seriali e da quella di Ceghera Pozzi, che sarà non solo uno spazio espositivo, ma anche un'occasione per conoscere più da vicino due illustratori di fama internazionale, come Malika Favre e Milano Pozzi. Poi il tema di questa edizione è l'Ugior Self in Art, quindi abbiamo anche commissionato un'installazione a Stefano Diaribadessi, che aiuta i visitatori a immergersi completamente nell'arte. E per immergersi nell'arte, anche il nostro programma di talk è organizzato, si terrà all'interno di questa installazione. Il tema è quello da una parte del Mediterraneo, che è una delle nostre istruzioni speciali di quest'anno, quindi un'altra delle novità. Dall'altra invece si parlerà di arte e nuove contaminazioni in altri territori, tra musica, cinema e cucina, con ospiti di assoluta eccellenza come curatori e fondatori di Noarte, direttore del Milano Film Festival e Alessandro Borghese.